Ariano conserva il posto nel comitato dei sindaci dell'ASL. Il primo cittadino Enrico Franza è stato eletto all'unanimità dei 58 presenti. Succede a Domenico Gambacorta, decaduto dalla carica di sindaco e quindi anche da componente dell'organismo. Il voto per alzata di mano si è tenuto questa mattina d'Avellino presso il palazzetto dello sport. Il nome di Franza è stato proposto dal sindaco del capoluogo Gianluca Festa e poi appoggiato dalle fasce tricolori di Bisaccia e Solofra. La nomina era nell'aria. Il criterio seguito è infatti quello di assegnare gli incarichi ai comuni sede di ospedale. Del comitato fanno parte, oltre al sindaco di Ariano, quelli di Solofra, Bisaccia, Sant'Angelo dei Lombardi e Monteforte. Nel suo breve intervento Franza ha detto che l'organismo deve riunirsi più spesso, che deve dire la sua sulla programmazione dell'ASL e che la sua nomina non ha colore politico e che si impegnerà dunque a rappresentare le istanze di tutti. All'assemblea anche il sindaco di Solofra, che sul fronte della sanità da mesi sta conducendo una battaglia contro il manager del Moscati, Renato Pizzuti, accusato di non mantenere gli impegni e di voler smantellare il Landolfi, la cui gestione è affidata alla città ospedaliera. Vignola insiste nel chiedere le dimissioni del manager, avviata anche una petizione popolare. La direzione generale del Moscati è un muro di gomma. Non c'è nessun dialogo, non c'è nessuna volontà da parte loro di confrontarsi con i sindaci e con il territorio, le richieste di incontro sono venute sempre da noi, siamo in presenza di un'azione di smantellamento da parte dell'ospedale Landolfi di Solofra in violazione di quello che è il piano ospedaliero regionale, approvato dalla regione Campania e anche dal ministero della sanità in periodo di commissariamento ancora, quindi ha superato tutte le verifiche quel piano ed era previsto per l'ospedale Landolfi un certo numero di posti letto e di reparti, invece a Solofra è stato chiuso tutto in maniera inspiegabile e in violazione di legge.